Proveniente da un'antica famiglia di teatranti, lavora sul palcoscenico sin da piccolo, imponendosi in seguito come uno dei migliori attori brillanti, capace di passare dal varietà, all'operetta, al cinema comico e alla commedia italiana impegnata. Al cinema arriva agli inizi degli anni 40 debutando nella pellicola Il re del circo. Ha lavorato in molti film con Alberto Sordi e altri attori fra cui Carla Del Poggio, Giulietta Masina, Lea Padovani, Renato Raschel, Lia Zoppelli, Silva Coscine e Christopher Lee. Dal 1959 al 1962 ha partecipato ai caroselli pubblicitari televisivi della serie Narciso Fidanzato. Indeciso, assieme a Lia Zoppelli ed Enrico Viarisio, per l'industria dolciaria Alemagna, negli ultimi anni, ha insegnato dizione agli studenti di teologia a San Marco di Firenze. Trascorre l'ultima parte della vita presso la casa di riposo per artisti dello spettacolo Lida. Borelli, a Bologna, dove muore nel 2003.